Questa invenzione mi farà diventare ricco, molto ricco, e potrà sposare qualcuno un gioco. Tu che ne dici, gatto? Le espressioni e la voce non coincidono proprio a altre. Vabbè, tu vuole sposare me? Vabbè? Mi accontenterò di quel burzero blu? No, no. No? Tu vuole sposare me? Ma? Tu vuole parlare me? Italiano? Russia? Ma ma. Cosa cazzo dire? Ma ma. Io li penso! Io ti vuole morto! Ok, lo tentano suicidio numero uno! Mi vado davanti giù! Vai!